Era ricercato da ormai 11 anni e il cittadino albanese è fermato ieri pomeriggio all'aeroporto Cattullo di Verona. Pensava forse di essere stato dimenticato dallo Stato italiano e il 53enne in arrivo a Verona con un volo proveniente da Tirana. Ad incastrarlo un controllo dei documenti effettuato dagli uomini della polizia di frontiera aerea, che lo hanno riconosciuto nonostante gli 11 anni passati a nascondersi. L'uomo risulta infatti ricercato addirittura dal 2006 e avrebbe dovuto scontare una pena di 5 anni per gravi reati associativi legati al mondo della prostituzione. La pena emessa dal Tribunale di Viterbo sarà scontata dal cittadino solo a partire da oggi. L'uomo è stato infatti portato nel carcere di Montorio per l'espiazione della pena.